La Puglia è la prima regione ad aver adeguato la strategia di crescita alle linee guida nazionali per lo sviluppo sostenibile. Nelle scorse ore il Consiglio regionale ha approvato il documento redatto dall'Assessorato all'Ambiente che consente di coordinare tutte le attività regionali, dallo sviluppo economico all'agricoltura e al turismo, improntandole alla sostenibilità. Questo è veramente un atto molto importante per la regione Puglia. Abbiamo iniziato nel 2021 con un documento preliminare della strategia dello sviluppo sostenibile della regione Puglia che ha declinato a livello regionale i gol dell'agenda 2030. Non solo programmazione ma proprio una valutazione perché ci sarà un monitoraggio costante, quindi la strategia non è un atto rigido, quindi non è un atto di programmazione ma segna la visione, segna la visione della Puglia, la proiezione della Puglia verso questi obiettivi straordinari. Il documento consentirà di monitorare e verificare la correttezza di tutte le politiche regionali. È sostanzialmente uno strumento trasversale per cui ringraziamo anche tutte le altre articolazioni regionali che hanno contribuito alla stessura del documento sotto il coordinamento dell'assessorato all'ambiente con cui sostanzialmente avremo la possibilità di monitorare l'avvicinamento di tutte le politiche regionali agli obiettivi di sostenibilità dettati dalla strategia nazionale ma fondamentalmente dall'agenda ONU 2030. Grazie. Grazie. Grazie.